San Giorgio Ionico, venerdì 23 agosto 2019, notte di jazz tra i vicoli, seconda edizione. Un evento organizzato dall'amministrazione comunale di San Giorgio Ionico, dall'associazione turistica Proloco di San Giorgio Ionico e dall'Arci Bounty Club di San Giorgio Ionico, in collaborazione con la biblioteca comunale Associazione Amici della Biblioteca Monte Leone e con l'associazione artistico-culturale Lino e Nini. Media Partner, Giornale Armonia, un percorso tra i vicoli del centro storico di San Giorgio Ionico, tra musica, sapori, poesia e pittura. Artisti nazionali ed internazionali si esibiranno per una notte magica di jazz. Drumline Drummer, Smooth 2. Antonello Parisi Trio Marcello Nisi Trio Santin Latin Trio Druid Evil Drumming Band Very Special Guests Eddie Palermo Trio, Brazilian Jets Trio Zamuner Morriconi, Jets Quintet Richard Sinclair, London Front Caravan Marco Iannetta, Travel Around Drums Vi aspettiamo a partire dalle ore 20, ingresso libero! Moira Grazie a tutti! Grazie a tutti.